Decine di ettari di macchia mediterranea in fiamme. E' questo il tremendo bilancio dell'incendio divampato ieri in zona Lidochecca nei pressi di Marina di Pulsano. Il luogo ha reso necessario l'intervento sia dei vigili del fuoco sia della polizia locale che si è occupata di far evacuare un centinaio di persone dalle proprie abitazioni. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, stando alle parole dell'assessore Cataldino non si escludono dolo o comportamenti irresponsabili. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS